Va bene, Norman sta andando a prendere l'antidoto, avviso Yuri Vedete perché, sia in un senso buono che nel senso cattivo, cosa va spinto a farlo? Meglio, sempre tre link che trovate tutti gli indirizzi per comprare i videogiochi con sconti, scusi, fino al 70% Deve esserci un modo per contattare lì e Otto e comincerli ad abbandonare questa crociata vendicativa Non possono mandare all'aria quanto di buono hanno fatto in passato solo per distruggere le norme Posso dire che Otto non mi sembra così disposto al dialogo Tra l'altro è Otto e Osborn che hanno creato lì, capisco perché lui ce l'ha, si è incazzato Proprio per cercare una cura per il figlio di Osborn, perché abbiamo scoperto che è il figlio di Osborn E' amare Devo eliminare questi demoni prima di seguire lì nel laboratorio Ok Eliminiamo i cecchi Occhio Dormi bene? Mi piace che sei... Eh, no perché... Scusa A dire il vero non mi ero accorto che ce ne erano due, cioè quando mi sono mosso Sì, già Avevo già capito che avrei fallito, insomma Eh, però adesso io non ho dato l'allarme No, eh, sono stato fortunato, tra virgolette Allora, adesso Ole, adesso proviamo ad andare dall'altra parte Sono meno pericolosi quando combattono divisi Ma va Ma dai E' veramente il capitano ovvio, eh Sì, è proprio il capitano Anon in questa Devo liberarmi di questi demoni Prima che li trovi la... Stai mandando la missione, se mi avete messo il cecchino qui, mi devo fare Allora, proviamo a farlo così Eh sì Cioè, se scendi di 10 centimetri da... Da sta stanza No, il problema è con queste stanze qui Che sono veramente troppo piccole Allora, adesso a sto giro andiamo un pochino più Bravo, più safe Puoi fare... Non lo puoi appendere Adesso sì Se devi mettere acquacciato, se no, pensa che io me ne vado Fatti una dormita Madonna Ah, sopra, sopra, si spavano da sopra Che è che mi sta spavano da sopra? Sì, non è andata lì No Ah, non lo so sognato, va bene Allora, va bene E' meglio neutralizzarli in silenzio Bravo Sicuro? Sì Non è troppo lontano Ora è vicino Ole Dai, che piano piano li prendiamo tutti Allora, là è chi... Ce ne sono due I cecchini sono stati? La due Sì, sì Ok Mo' piano piano li prendiamo tutti Beh, sì Cazzo, c'è anche questo terzo Mannaggia Mi sa che tra poco andrà a incagnare, eh Ci sono troppe persone per esperienza, ti dico Beh Allora, forse possiamo provare... Beh, uno pattuglia, quindi se ne va Gli altri due Gli demoni hanno eliminato gli agenti Sable Lì è sul piede di guerra Allora, proviamo... Distrarne uno Beh Come pericolo Ah, perché c'è l'altro Qui devi eliminare il primo o quello Dai No, ma davvero? Dai, mettimi il cursore Testa di cazzo Niente Eh, andiamo dagli altri Che ti dovi? Quando succedono queste cose C'è quello dietro? Allora, aspetta Quello lì lo distraiamo così perché Non c'ho... Non c'ho cazzo Oh, sicuro Proviamo di soppiatto No, c'è uno dietro C'è uno dietro Oh, che due coglioni Scommetto che non te l'aspettavi E va Oh, ma se mi piace quando... Eh, no, perché... No, era giusto Oh Era giusto Allora, qui come funziona? Vediamo Perché questi sono all'altra? Armati, scusa Cioè, in teoria no Boh Perché stanno ancora cercando La cosa di primo Quello lì Ce n'è un altro lì, cazzo Vediamo come si muovono sti quattro Dai Ci sarà l'altro Oh, finalmente Oh, cacchio Ce l'abbiamo fatto Almeno uno Questo dovrebbe... No Sì Eh, sì Vabbè È un ideale Sable Lì ha fatto piazza pulita Dei tuoi uomini Non farci troppo affidamento Sei stato avvisato Supereroe Ma perché Sable è così scema? Sì, ma poi c'è Cazzo C'è un momento in cui Osborne Ha detto Io non mi figlio di te, no? Che ho goduto come un pazzo Perché poi alla fine È vero Cioè È Uno in netta Sì Oh, finalmente cazzo E lei E lei Si è incazzata Andata sul balcone Però è sti cazzi Sì Ah, figatelo In questa situazione A parte che non vedo perché Cioè Che cazzo vuole da te Sicuro, sicuro? Eh Eh no Che sfiga Per un secondo Tra l'altro S'è anche incazzato Ti faccio notare Cioè Non è che Che poi veramente Sable Si è dimostrato Di un'inetta In qualunque cosa Abbia fatto Cioè Incredibile Appunto Oh Presi Fine Finalmente Dai Sono stato avuto Sì Molto Sable È stata di parola Questi tizi Non sono qui Per allearsi Minchia Pensate sia stato io A far fuori I vostri compagni Ma dai Sto cazzo Oh Porca toia Quando fa così Scusa Ma non poteva lanciarli Contro gli altri Invece Con noi Vietato No È che questi qua Il dito in culo Porca troia Occhio Devo sbrigarmi Introdurmi all'interno A un altro Beh vabbè cazzo Però sono troppi Figa Ma questa borsa Quanta è stupida Da parte di Senti Cazzo 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 Ti dire di cosa Quanta è stupida Sta mossa Oh che palle Sarebbe carino Se Sable Siamo sulla stessa parte Sì Sarebbe carino Ho fatto la parata Perfetta Un inferno di poco Occhio Zio Quando No più che altro A volte Succede che Non riesco Veramente All'animazione Sì Spero Veramente Che Sable muoia No Che C'è Non mi mandino C'è me ne manca uno Appello In culo Ok No più che altro C'è Che altro C'è Più che altro C'è veramente Questo senso Di frustrazione Quanto meno Un altro Poi uno L'ho preso Poi uno Oh Da fine Dai che ce la facciamo C'è una cosa Di ospita rara No ma Ecco È l'unico Secondo me Problema Nella storia Nel senso Che Questi Il ruolo Di questi qua Passano come Coglioni Per tutto il gioco E al posto Di pigliarsi Con i cattivi Ecco Ecco Sapevo che Me l'aspettavo Di un po' Di affrontare Hai assalito I miei uomini E distrutto I miei equipaggiamenti Sei costato Milioni Al mio cliente Dammi una sola Ragione Per non ucciderti Ascolta Tu non mi piace E io non piaccio A te Ma in questo momento Il tuo cliente È alla merced Di lì E lo aspetta Una brutta fine Se non interveniamo Possiamo restare A litigare O affrontare lì Scegli tu Pure le pistole Sono marca Sable Ti ripeto Sono solo Allibito Da tanta stupide Allora 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 Abbiamo un accordo Mi aiuterai A salvare Norman Per il resto Non prometto nulla Affare fatto È fuori controllo Tu pensa a Osborne Io parlerò con loro Magari Magari Crepon 90% Viva gli amici Bene Basta scappare È ora di finirla Ok Mi devi evitare Lo schifo È una follia Devo fare appello Al Martin Lee Che conosco Il fondatore Dei Fist Center Ma Tu hai capito Dove devo No Ma Vediamo Laggiù Madonna Ok Ecco Ok Mi tocca scendere Mi sembra che c'è un cratere Comunque Sì Olè Oddio No Mi Supercazzo So So Dell'incidente So Cos'è accaduto Ai tuoi genitori Ah è Batman Incidente È lo stesso Genismo Di Osborne Beh In effetti Stavo facendo un test Su lui Quindi non è molto Incidente Magari Se fossi stato In Spiderman I miei genitori Sono morti A causa mia Perciò che Osborne Mi ha fatto Mi ricordo un gioco Posso un Resident Evil Revelation Il tuo passato Non ti definisce Puoi liberartene E poi dai grandi poteri Derivano Volevo fossero orgogliosi di me Volevo onorarne La memoria Ma per farlo Osborne Deve rispondere alla giustizia Non posso permettertelo Martin Dov'è? Boh Trovo Norman Che cazzo è Norman Boh Ok dove dobbiamo andare? Guarda in alto Ecco Oh le Non posso correre Se te lo stai domandando Lo sai che io odio Non correre Non avevo dubbi Dall'animazione Della camminata Però Si fa sempre Prendere a minchia Così Da questi Il dolore di lei La sua rabbia Stanno alimentando Il suo potere Alcuni istanti prima Oh mamma Sai cosa sei qui È l'unico campione Lo bene No No Martin Io Te l'ho detto Mi dispiace È stato un incidente Io volevo aiutarti Non aiuti le persone Tu le usi Martin Non riavrai i tuoi genitori Perché ti ostini a voler Salvare quest'uomo spregiore Io voglio salvare te Martin Non cercare vendetta Basta Non mi sembra La risposta giusta No Non mi sembra Che ti abbia detto Che poi Che poi è stato Olsborn merita una punizione Troppo a lungo E' stato Come una piaga Questa ci sta Olsborn merita Il giusto castigo Ma prima Devi mettere fine A questa follina Adesso io Sono troppo più potente Rispetto a te Le tue deboli facoltà Cazzo però Non mi prende poteri Te lo manchi Ce lo riesce per cazzo Cioè Paradossalmente Se no sarebbe troppo facile Questo Non sei tu Veloce Veloce Questo È il vero Me stesso Cazzo No È proprio Inefficace Con fermo È troppo facile E là là Diritto Questo Perché era già entrato Un combo Non vale Occhio occhio Non è attaccato Allo sfogare Un po' Oh Crepa Oh La madonna Finalmente Ah Lo scuro Cioè Attaccare col demone gigante Era troppo intelligente No Cioè Meglio Piomini neri Del cazzo Eh Beh Quindi non ho capito Secondo te c'è una speranza Che lì C'è un lì buono A cui appellarsi Oppure Secondo me sì Dai Alla fine Io inizio A avanzare Via Bravo Via Un grosso demone Un grosso demone Ah Mi hai fatto Poco male Via Ce la faremo No Cazzo Riesce sempre A beccarmi Con quel attacco Ma stavolta No Oh Santo C'è Oh Ah Ritorno Gli 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 stronzetti Questo è stato bello Ok Oh Cazzo Vai via Vai via Vai via Questo ti fa male Cosa Comanda Le tue Deboli Facoltà Ora Basta Resto Tutto Sarà Finito È quello Che spero E la B Oh Cazzo Che è Quando era entrato In Dai Attacca Ti ho preso In parola Oh Merda 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 Vai Sì Vai Via Oh Cazzo Oh È veramente Posso dire È È lungo No Eccolo Eccolo Vai via Vai via Vai via Cazzo Che male Che male Che male Che mi hai fatto Questo Mettiglia Cazzo Non posso mollare Non posso mollare Ci sono quasi Dici Dici A me non sembra Cazzo Anzi Mi sembra che la situazione Non faccia altro che peggiorare Come ti comincia ammazzando un po' Che recuperi concire Cazzo Dei stronzetti Hai ragione Vai via Che è pronto Vai Mena i mille Agente Smith Una parola Ecco Mi ha preso Pure lui Vaffanculo Una madonna E poi E poi No dai Teste di ca Dai Via Sei morto No Eh Può essere Un primo errore Adesso Adesso Dai Un po' recuperato Speriamo Sono così teso Che mi taglio Con un grisello Ecco Questo attacco Da stronzi Dai Porcaccia Misera Scaricati Oh cazzo Questo mi può No Via Questo Dai picchia Picchia Dai 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 Oh Finirà Via Oh cazzo 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 Via Un merda Vai via Oh no C'è lui eh C'è lui Puoi triangolarlo Oh Forse ci abbiamo fatto Vabbè ha fatto Mamma mia Ragazzi Che panico Che tensione Molta tensione Tanto dobbiamo staccare Dai Sbrigati a morire Stronzo No basta Cazzo Faccio che questo Quintime event Proprio È il boss Quattici Prima adesso Eh Quattici Direi Di Quattimico Io penso Positivo Non scon Giovanotti Osborne Deve pagare Lo so Ma non è questo Il modo Martin Che adesso Arriverà Lui Inutile Un a 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 quell'espressione nei tuoi occhi non sai da quanti anni desideravo vederla pronto per il gran finale a minchia guarda quello lì penso che sia il nostro sangue cioè ci ha sbatacchiato in giro non abbiamo preso il siero c'è solo sta stronza di silversable che adesso romperà ancora i coglioni e e dov'è andato via ma non devi preoccuparti di lui andiamo in ospedale no non in ospedale a vista prima voleva farmi il culo adesso è culo e camicia com'è eh oh tac tac eccoci qua naturalmente ci sarà un'altra cutscene spoiler vabbè ma se pensavi che potessi non finire così ma non è finito pensavo di non finirlo ok ci serve un dottore non ci sono dottori chi gestisce il centro io credo ok cercherò di fare del mio meglio hai maschere e guanti strumenti sterili lo sanno che per operare lo devono togliere il costo in grado se vuoi ringraziarmi sopravvivi che non c'è come avere fretta che c'è la cazzina infinita dopo il boss che non è l'ultimo boss che non era l'ultimo boss che non era l'ultimo boss e vabbè vabbè eh ehi aspetta piano dov'è May guarda che è incredibile dicono che non le resta molto tempo non cazzo mai ti immagino adesso dove vai devo trovare otto all'antidoto non so se posso batterlo ma tu forse no ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano cosa? ha lavorato Peter su quelle braccia lui potrebbe trovare un punto debole se abbiamo perfezionato con lui perché era giusto perché una volta che vesti tutto il fringuello ah così cioè adesso sta anche bene ma ma eh sì ce l'ha sulla spalla da circa 300 anni ma che cos'è? è un ragno che ho trovato da Osborne di ricerche giusto però allungherà ancora un po' la cutscene sì giusto però no lo spiderman nero no che è lo spin off lo sai no? sì forse ci siamo no 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 c'era il numero però scritto dietro il ragno è uno di quelli brutti 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 forse abbiamo finito forse eh no no non ci scommettere le parti adesso c'è tipo apocalipsino tutto cioè adesso da qui è tutto un unico filmato fino alla fine del gioco quasi adesso ti chiamano bene ragazzi basta ciao fuggite shock ciao ciao